Buon venerdì da Beirut. Ci siamo questa mattina alle 7 locali e cominciata la tregua di 4 giorni a Gaza che ci si aspettava cominciasse ieri mattina ma era stata rinviata, lo ricorderete ne abbiamo parlato diffusamente ieri. E la prima pausa dopo 7 settimane di bombardamenti e 4 dall'inizio delle operazioni di terra nella striscia. In questi giorni 150 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e 50 ostaggi detenuti da Hamas a Gaza dovrebbero essere rilasciati se tutto andrà secondo i piani. Alle 16 e 15 locali è stato il primo ministro tailandese Esretta Tavisin a annunciare la liberazione di 12 ostaggi tailandesi da Gaza. E in generale i primi rilasci di oggi sono 39 palestinesi e 13 ostaggi di Hamas e appunto sono cominciati oggi pomeriggio ed è un segno molto importante. Ora facciamo un passo indietro come succede spesso in questi casi nelle ore prima dell'inizio della tregua i bombardamenti israeliani si sono intensificati su tutta la striscia di Gaza con attacchi a Rafa e nella città di Han Yunis nel sud oltre a continui bombardamenti sul nord. E' una cosa abbastanza frequente prima di ogni c'è stato il fuoco chi sta attaccando prova a dare un colpo più duro del normale al nemico sia per rendere più difficile la sua riorganizzazione ma sia per un motivo psicologico cioè indicare che non c'è un indebolimento dell'attacco dovuto a proprie carenze. Noi siamo a piena potenza ma ci fermiamo volontariamente. Tarek Abu Azum di Al Jazeera da Han Yunis racconta che la prima pausa nei combattimenti è stata accolta con grande sollievo dai palestinesi che per la prima volta da settimane si sentono un po' più al sicuro. Detto questo siamo molto lontani dalla fine dell'assedio su Gaza. Proprio oggi Israele ha affermato che l'accesso al nord della striscia resta comunque vietato, Gaza City e Jabalia in particolare per farlo ha lanciato volantini nel sud di Gaza avvertendo le centinaia di migliaia di palestinesi sfollati che hanno cercato rifugio lì di non tornare al nord durante l'offensiva di terra che è soltanto in pausa. Oggi infatti un gran numero di sfollati dal nord stava cercando di tornare alle proprie case anche solo per cercare di salvare qualcosa, qualche ricordo ma purtroppo non sarà possibile. E infatti la cronaca ci dice che almeno due palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano e 11 feriti alle gambe mentre tentavano questo viaggio nel nord di Gaza. E per confermare quanto siamo lontani da una pace sul terreno lasciamo stare quella politica che richiederà anni, il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto più volte tra ieri sera e oggi che questa tregua è soltanto una breve pausa e che al termine Israele riprenderà le sue operazioni militari a piena forza. Durante un incontro a Tel Aviv con il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, Gallant ha ribadito che non ci fermeremo finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi, sempre i soliti. La distruzione di Hamas e il ritorno a casa degli ostaggi da Gaza in Israele. Ci sono 240 ostaggi ed è qualcosa che non possiamo accettare e non possiamo tollerare, così ha concluso Gallant. In ogni caso questa tregua per quanto sia meno del minimo necessario è utile se non altro per portare aiuti umanitari dentro Gaza in quantità più adeguate alla crisi umanitaria in corso e in minime condizioni di sicurezza. Parliamo di 200 camion di aiuti al giorno per quattro giorni che sono comunque insufficienti ma che consentono se non altro di dare un minimo di supporto d'emergenza. E in questi quattro giorni per la prima volta entreranno anche camion di gas e di carburante. Parliamo di 130 mila litri di benzina e quattro camion di gas. Poco ma meglio di niente. E il Qatar che ha mediato l'accordo è anche responsabile del monitoraggio di violazioni alla tregua. Qual è il motivo? E il motivo è fare in modo che anche se ci dovessero essere episodi di violazione da una parte o dall'altra la tregua potrà continuare almeno per i quattro giorni concordati senza ora parlare delle estensioni nel tempo. Andiamo in Libano perché la tregua a Gaza ha portato anche la calma sul fronte libanese e non può che farci piacere. Anche se mercoledì si era detto che l'accordo tra Israele e Hamas era limitato soltanto a Gaza, in realtà questa mattina un portavoce di Hezbollah ha dichiarato il quotidiano libanese Lorient Le Jour che il suo partito rispetterà il cesta del fuoco a patto che il Libano meridionale non venga attaccato. Secondo Qassem Kassir, un analista vicino a Hezbollah, sono gli Stati Uniti ad aver convinto le parti a estendere territorialmente la tregua. Ora, con un linguaggio un po' diverso ma nella sostanza poi abbastanza simile a livello di comunicato, anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto qualcosa di simile, ha detto che Israele non ha preso nessun impegno formale per una tregua al confine settentrionale, ovviamente, e che Hezbollah sarà giudicato in base alle sue azioni. Significa in modo molto simmetrico a quanto detto da Hezbollah che Israele non combatterà per quattro giorni se non ci saranno attacchi da parte libanese. Grazie a questa calma sul confine molti abitanti del sud che erano stati sfollati nelle scorse settimane, parliamo di 25.000 sfollati, qui parliamo invece di una popolazione più limitata, potrebbero tornare a casa per ritornare a lavorare i campi e capire quali danni abbiano subito i loro villaggi. Il comando dell'esercito libanese, così come Unifil, ha però voluto mettere in guardia, ha detto attenzione ai rischi legati ai residui bellici esplosivi lasciati dagli ultimi attacchi israeliani, in particolare le bombe al fosforo e le munizioni inesplose. Su queste raccomandazioni di sicurezza comunque possiamo dire che la situazione effettivamente oggi ha subito un netto miglioramento e ci auguriamo che regga per tutti questi quattro giorni. Noi ci risentiamo domani, sempre da Beirut, sempre con gli occhi aperti su Gaza, sul Libano e su tutta la regione. Grazie a tutti.